Ben trovati, una nuova puntata è la stanza del sindaco, una nuova occasione per fare per farvi conoscere un primo cittadino, ve lo presento immediatamente, è il sindaco di Tolentino Giuseppe Pezzanesi, ben trovato, ben ritrovato perché ci eravamo visti ad inizio mandato perché lei vince le elezioni nel 2012 con un percentuale importante, un cambiamento per questa città da anni amministrata dal centro-sinistra, quindi una novità, una responsabilità e allora a tre anni e qualche mese che bilancio può fare? Poi parleremo invece dei nostri giorni e del futuro, però come sono passati questi tre anni da sindaco in una città importante come Tolentino? Intanto un ringraziamento a voi e un saluto ai telespettatori, vengo sempre volentieri nella vostra emittente perché ogni volta che mi date la possibilità di poterci incontrare, tocchiamo tematiche molto importanti. Come lei diceva tre anni e più ormai dalla mia vittoria, una vittoria importante, una vittoria peraltro per cui sono ancora grato ai cittadini di Tolentino per un motivo molto semplice, abbiamo stilato un programma che prevedeva appunto un processo di cambiamento della città. È questa promessa che abbiamo fatto ai cittadini e su questa promessa abbiamo lavorato in questi tre anni e mezzo, che sono passati in verità molto velocemente e che hanno visto in ordine temporale investire circa 13 milioni, 14 milioni di euro su opere importanti per la città, che riguardano essenzialmente l'ambiente, la parte strutturale di Tolentino, quindi opere viarie, interventi nelle cinta murarie, nel centro storico, recupero di edifici che poi sono stati destinati alla collettività e quindi una serie importante di opere che avevamo messo in programma e alcune addirittura non erano state messe in programma ma si sono calate perfettamente in un'ottica di recupero generale e di rilancio della città, che aveva bisogno e che ha bisogno di interventi, in un momento peraltro difficilissimo sotto il profilo economico. Noi non dobbiamo mai dimenticare, ma ormai lo sanno tutti, che i comuni sono pressoché stato di abbandono sotto il profilo del sostegno economico da parte del governo centrale e anche la regione in questi ultimi due anni, tre anni, sta facendo soprattutto nel sociale, lo devo dire, in maniera rattristata e in maniera però forte, che abbiamo perso per esempio di recente, dicono che vogliono ripristinare questi fondi ma non abbiamo ancora visto traccia di questo, ci auguriamo che lo facciano per serietà e per dedizione al settore appunto che hanno penalizzato, che è appunto quello dell'handicap per coloro che appunto sono svantaggiati, solo nel 2014 abbiamo avuto un taglio di circa 500 mila euro che in un momento come questo, per via di altri tagli eccetera, rappresenta per noi come per tutti gli altri comuni, indipendentemente delle marche, indipendentemente dalla esponenza politica o dalla composizione politica, un momento drammatico anche di quadratura di bilanci ma la cosa più importante è che poi noi non possiamo abbandonare chi è più svantaggiato, chi è più debole appunto a vita di tutti i giorni e quindi i comuni sono impegnati a portare avanti questi servizi e questo è un punto molto dolente, lo voglio sottolineare, la regione non dovrebbe e non può a mio avviso far mancare fondi in questi settori. Abbandonare così i comuni. Sindaco, anche nel suo comune la parte destinata ai servizi sociali è quella che pesa di più? Senza dubbio, purtroppo dobbiamo dirlo molto sinceramente anche nelle città come la nostra dove l'artigianato di qualità, di altissimo livello, l'industria anche lì di altissima qualità tiene botta, ci sono comunque riscontrati anche se in percentuale minore rispetto al dato nazionale delle chiusure di attività e delle perdite quindi a livello occupazionale di posti di lavoro e questo si è aggiunto ovviamente a tutto ciò che rappresenta lo standard del sostegno sociale quindi chi già di suo è svantaggiato, chi è debole, chi magari è malato e ha bisogno dell'abbattimento delle barriere architettoniche eccetera quindi a questo si è aggiunta una disoccupazione crescente seppur, ripeto, la nostra può ancora considerarsi molto inferiore rispetto al dato nazionale come dato disoccupazionale per cui comunque la povertà diciamo così a volte sconosciuta in alcune famiglie è entrata nelle case e molte volte c'è anche qualcuno che purtroppo si vergogna a chiedere perché non rientra nelle nostre tradizioni, nel nostro modo di essere giustamente siamo orgogliosi, abbiamo fatto tanto specialmente le precedenti generazioni, ecco la disabitudine a dover chiedere e quindi questo porta anche a momenti di calo, di depressione e quindi ecco ci vuole molta 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 attenzione e noi quello che stiamo facendo ma la coperta è corta perché comunque nel garantire gli servizi essenziali così come giusto che sia per un comune prima ancora degli investimenti, prima ancora che pure sono necessari perché se non si fanno gli investimenti strutturali ne risente anche il dato occupazionale, ecco quindi questi sono i due filoni sicuramente più importanti bisogna dire che la coperta è corta per quello che è il dato crescente appunto di richiesta e di necessità nel sociale stiamo facendo tutto ciò che è possibile e abbiamo messo anche degli ammortizzatori appunto sociali nel pagamento delle imposte perché è rimasta l'unica nostra entrata perché il governo come ciò prima ci ha abbandonati e lì naturalmente ci rivolgiamo alle famiglie con reddito basso a volte minimo a volte inesistente e mettendo degli ammortizzatori sociali anche nei confronti delle famiglie numerose e anche ci siamo rivolti ai giovani imprenditori abbassando le imposte canoniche classiche di un'impresa vero e pimpante il ruolo che ha, l'abbiamo messo anche come nostro sfondo questa piazza qui si vede la torre dell'orologio ma certo Tolentino ha tante bellezze e ha tanti luoghi che la identificano però la vivacità della piazza insomma è sintomatica spesse volte di quello che sta accadendo in una città le volevo chiedere però del notizia proprio di questi giorni, di queste ore come legge questo annuncio dello sblocco del patto di stabilità per i comuni virtuosi noi nelle nostre puntate abbiamo imparato tutti a conoscere il patto di stabilità che sostanzialmente ferma un comune perché anche le aziende sotto il profilo appunto del DURC del versamento contributivo perché altrimenti non potrebbero partecipare agli appalti quindi se questo è le aziende si stanno dissanguando perché sono anni ormai che non possono partecipare più ad appalti perché gli appalti non ci sono nella grande maggioranza dei casi e quindi avere uno sblocco significa veramente rilanciare le economie e il territorio e l'occupazione e questo è quello che ci auguriamo tutti ma d'altro canto tutti gridano allo scandalo sotto questo aspetto è vero anche che c'è la comunità europea che ci tiene un po' la mano sopra e in questo caso non ci fa emergere perché comunque nella rendicontazione generale, nello stato dei conti di ogni nazione c'è anche il discorso dei patti di stabilità quindi queste sono battaglie da portare avanti e da vincere quindi il nostro governo rappresentato da Matteo Renzi e da tutti gli altri ministri è un governo comunque rappresentato da un ex sindaco giovane per quanto nella non mia area politica ma questo non significa che non possa fare cose buone e se veramente sblocca e vanno incontro allo sblocco dei patti di stabilità in maniera certa e considerevole io credo che fanno una cosa molto buona per la nostra nazione e non possono che essere ringraziati per questo Senta sindaco, a proposito di attualità le chiedo anche un suo parere così anche chi ci ascolta insomma si fa un'idea di quello che sta accadendo si sta discutendo tanto della riforma del Senato sta andando avanti per spiegarla concretamente è una riforma che per esempio per le Marche porterebbe, ridurrebbe dagli attuali otto senatori che esprimono la nostra regione a due di questi due perché c'è un criterio di popolazione e territorio di questi due uno sarà un sindaco e uno sarà diciamo così un consigliere scelto verrà scelto, saranno 95 i senatori, 5 saranno quelli nominati che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica una riforma che andrà a regime prossime elezioni regionali perché uscirà da quella legge quando si andrà a votare nel caso delle Marche se tutto dovesse andare normalmente parleremo del 2020 perché abbiamo votato giusto quest'anno lei come la vede questa riforma insieme a quella elettorale che è un'altra riforma corposa insomma che questo governo sta facendo a livello di, sta ridisegnando un po' il territorio, l'amministrazione le rappresentatività, insomma sono riforme in serie, strutturali, importanti che cambiano proprio il destino forse anche di un paese vorrei esagerare però la riforma del Senato, il Senato della Repubblica è una riforma sostanziale Senza dubbio, io sono d'accordo con lei questo è un paese che ha parlato spesso anche a sproposito di riforme nel senso il paese ne ha bisogno ma al di là delle tornate elettorali dove tutti parlano di riforme poi i vari governi che si sono succeduti quindi non tiro fuori neanche quello che mi riguarda come area politica potevano fare molto di più sotto il profilo delle riforme e questo non è stato fatto oggi si è cominciato dalla riforma elettorale e qui apro e chiudo una parentesi che comunque è una riforma ma non mi trovo d'accordo per quanto riguarda l'essenza di questa riforma perché io sono nato dal popolo, nel popolo e i cittadini mi hanno sempre accompagnato in questo mio cammino fatto di cose, almeno di argomenti concreti che riguardavano il nostro territorio il nostro modo di essere, i nostri valori l'educazione che abbiamo avuto in famiglia, nella scuola e nel mondo del lavoro è basata l'impostazione sul rispetto delle normative quando anche non ti piacciono quindi essere incanalati in una strada che si conosce bene ecco queste leggi elettorali che comunque vengono cambiate ma non arrivano al mio modo di vedere a ridare un vero senso democratico al paese perché hai voglia a dire la preferenza può essere orientata ma scegliere da Roma chi devono essere i candidati come era nella vecchia legge e come è sostanzialmente oggi che si devono candidare come nelle liste blindate chiuse dei vari partiti e poi destinarli sul territorio è la cosa peggiore che si possa fare perché se c'è una motivazione vera, seria che un candidato e poi un eletto possa portare a Roma per portare avanti quelle che sono le vere esigenze del territorio che conosce perché è nato in quel territorio cresciuto e vissuto in quel territorio bisogna solo che il popolo possa sceglierselo ma nella terra dove è nato non nelle marche uno che viene da Lazio o viene dalla Lombardia o viene dalla Sicilia o dalla Sardegna ecco perché queste non sono cose sulle quali mi trovo non d'accordo io credo che il territorio possa essere rappresentato così come deve essere rappresentato come era un tempo e non mi pare che poi questi territori non siano cresciuti perché ci sono state riforme importanti anche e soprattutto nel settore della paesaggistica dell'urbanistica, dell'agricoltura, dell'industria ecco ci sono state delle evoluzioni che in quei periodi hanno consentito anche a chi aveva per esempio un appezzamento di terreno e quindi un lavoro come quello in agricoltura non estremamente redditivo di avere comunque una casa di poter assicurare un futuro alla famiglia e di impiegare magari gli stessi figli in un'attività che è il vanto oggi e si vuole recuperare la nostra nazione della nostra vita per esempio quindi io credo che i rappresentanti del territorio debbano essere per forza quelli che portano avanti le esigenze appunto del territorio come sono nati quindi questa ma il sindaco poi alla fine no? se no c'è solo il sindaco a essere scelto bravissima questa è un'altra questione ecco appunto della riduzione parlando di riforme del numero dei senatori ma a mio avviso servirebbe ridurre anche quello dei deputati perché noi non dimentichiamoci che abbiamo un esercito a Roma molto costoso peraltro in un momento in cui perché le auto blu alla fine non sono diminuite i vari portaborse non sono diminuiti gli addetti ecco c'è stato un tentativo ma non sostanziale diciamo molto di facciata il popolo in un momento così difficile si aspetta riforme molto non risolverebbero comunque completamente ma solo una minima parte dei problemi del nostro debito pubblico ma sarebbe un inizio di un cammino di riforma che aprirebbe veramente le porte a una serietà nell'affrontare i problemi che fino ad oggi è una concretezza non c'è stata per esempio in America ci sono all'incirca 200 addetti ai lavori tra Senato e gli altri organismi in una nazione estremamente vasta noi qui ne abbiamo circa 600 in una nazione estremamente piccola e poi per non parlare dei vari organi a cascata quindi consigli regionali quindi le province quindi le regioni e poi i comuni che siamo gli ultimi a portare la croce ma quelli che tutti i giorni ci confrontiamo e quindi benvenga la rappresentanza di un sindaco benvenga la rappresentanza di un consigliere regionale perché veramente è una riforma strutturale e che cali il numero di questi rappresentanti perché non servono tantissimi rappresentanti per governare bene intanto i rappresentanti dovrebbero agire con più compostezza e dignità perché abbiamo visto anche in questi giorni dei fatti che allontanano veramente la filugia degli elettori nei confronti da parte di chi poi rappresenta ecco perfetto ma ecco quello che io mi auspico è che si continui su questa strada indipendentemente come si suol dire da chi tocca perché chi si affeziona troppo a quelle sedie deve pensare che quelle sono sedie che servono per migliorare il paese non per migliorare la situazione individuale di questo di quel soggetto o per creare forme di potere ecco quindi bravissima quindi deve essere un qualcosa di diverso chi veramente ama il paese chi sceglie questo chiamiamola professione anomala ma che alla fine quando lo fai a tempo pieno diventa comunque una professione in molti casi addirittura non retribuita ma va bene così in altri casi troppo retribuita e malamente retribuita per quelli che sono poi risultati e non va bene certamente e questo non va sicuramente bene Sindaco alla scadenza del suo mandato della squadra che lei guida c'è ancora un po' di tempo e allora quali sono gli obiettivi le priorità per Tolentino lei parlando qualcosa l'ha già anticipato però lei pensa più a delle opere oppure ad un'azione diversa che punti sulla cultura sull'accoglienza sul turismo o ad entrambe ecco bravissima pensiamo ad entrambe perché la città deve essere vista nel suo insieme non può esserci perché altrimenti non sarebbe equilibrata un discorso appiattito tutto sulle strutture magari e non sulla pubblicizzazione con eventi con mirati così come abbiamo fatto ricordo che abbiamo fatto il premio Gianni Ravera con la presenza di Pippo Baudo e altre colonne dello spettacolo della musica della nostra manifestazione primaria a livello vocale e sonoro che è Sanremo e c'è stata una risonanza oltre a tutte le altre che facciamo che è la rievocazione della battaglia di Cioacchino Murà e di Napoleone Bonaparte al castello ci sono state delle parentesi di storia un anniversario importante insomma ricordiamo la battaglia dell'815 bravissima e quindi la nostra città di suo naturalmente si presta con l'abbinare dell'umorismo con Pop Sofia ad un palcoscenico estremamente ampio e internazionale chiaramente tutto questo giova all'impresa giova a tutti coloro che fanno accoglienza che vogliono divulgare la bellezza del nostro territorio che è straordinario qualchiunque viene dalle nostre parti indipendentemente che sia Tolentino che è bellissima o altre città che sono altrettanto belle io oggi mi trovo arreganati e arreganati con il film su Leopardi e con la sua bellezza innata ha portato questa bellezza nel mondo quindi ha varie candidature a premi importanti quindi tanto poi non può offendere insomma nessuno molte delle nostre città si assomigliano esatto le colline sono ugualmente tutte morbide tutte ben tenute le città che abbiano le mura però che non le abbiano raccontano una storia secolare insomma i teatri credo che per tanti aspetti ci assomigliamo un po' tutti nelle Marche nella nostra bellezza e nella nostra cura è verissimo tra l'altro le Marche hanno un territorio stupendo come proprio lei diceva nella generalità noi abbiamo mare e montagna a 30 km di distanza è qualcosa di straordinario abbiamo parchi naturali abbiamo questa cura come diceva lei del territorio delle colline i suoi colori le tradizioni e quindi chiunque viene da noi aggiunge a questo un anno gastronomia straordinaria che delle tradizioni è un artigianato in ogni senso da altri tempi io credo ecco ma ne sono sicuro perché ce lo dicono e ogni anno i numeri dei nostri ospiti dei turisti soprattutto dall'estero aumentano vuol dire che tutti ci guardano con un occhio innamorato è chiaro che poi noi sindaci come diceva lei quali sono i programmi dobbiamo esaltare questi dati e dobbiamo però anche creare le condizioni le strutture e questo naturalmente ai vari livelli le amministrazioni devono fare il loro dovere quindi arrivando anche alla regione io sono convinto per esempio che ancora oggi ci sia uno scollamento tra le risorse che vengono destinate alle zone rivierasche più popolose rispetto alle zone interne che invece la fanno anche loro da padrone sotto il profilo per la bellezza eccetera allora per evitare che queste zone un giorno possano essere spopolate hanno già incominciato i giovani a lasciarle perché fanno fatica le aziende a restare nell'entroterra non hanno i cosiddetti vantaggi che dovrebbero avere perché svantaggiate come viabilità come tecnologia ecco allora che la regione deve fare un passo importante deve investire affinché i giovani imprenditori non solo permangano nell'entroterra ma fioriscano e poi coloro che escono dalle scuole per esempio come dagli istituti commerciali dove fanno un indirizzo del turismo eccetera possano realmente trovare risposta sul territorio con delle borse lavoro che magari li facciano conoscere introdurre nei B&B negli agriturismi in tutte le realtà di accoglienza che noi abbiamo sul territorio dove c'è bisogno di preparazione e di comunicazione perché bisogna saper parlare le lingue eccetera quindi dobbiamo fare un salto di qualità sotto questo aspetto e su questo stiamo lavorando io lavoro per quello che è di mia competenza ma bisogna che le istituzioni più alte dove studiano appunto le borse lavoro l'introduzione anche temporanea per poi avere l'assunzione definitiva capiscano queste cose poi ritornando su Tolentino e sui progetti futuri naturalmente noi naturalmente non tanto perché ripeto il momento è difficile lo stiamo facendo con grande sforzo abbiamo investito circa 14 milioni di euro in opere pubbliche stiamo lavorando per esempio in questi giorni alla bio dei cantieri di via Primo Maggio e via Caramboni sono due vie dove i cittadini per vent'anni hanno raccolto le firme perché erano devastate all'interno del nostro centro storico ce ne sono altre ovviamente ma questo è il là è l'indirizzo cioè l'amministrazione in questo ultimo anno e mezzo di amministrazione ovviamente prima delle nuove elezioni vuol fare molto anche in questo senso cioè entrare nel salotto cittadino che è già bello che è straordinario ma i cittadini e i turisti molte volte guardano in su per ammirare le bellezze delle nostre architetture delle case della torre degli orologi o altre bellezze del nostro territorio dei nostri centri storici poi magari inciampano perché trovano in tutti i comuni o quasi in molti di essi le vie ammalorate da una gestione diciamo così negli anni nei decenni non proprio ottimale anche perché molte volte si lasciano transitare betoniere di quintalaggio spropositato all'interno delle nostre vie storiche dove poi ecco i fondi delle strade vengono poi rotti devastati e poi ecco non ci sono i fondi adeguati per ripristinare allora guardiamo in alto ma guardiamo anche in basso e soprattutto io sono favorevole questo è il nuovo progetto a far sì che i nostri salotti del centro storico diventino veri salotti non solo per le iniziative per la bellezza delle attività commerciali e ringrazio tutti i commercianti che sono ancora oggi sono tanti nel centro storico con i loro bellissimi negozi la loro forza interiore oltre a quello che stanno mettendo in campo per rimanere saldi nelle loro attività ma naturalmente noi dobbiamo fare in modo che per esempio il traffico veicolare o il parcheggio non sia a ridosso del non sia non intasi i centri storici ma consenta ma arrivando nelle immediate vicinanze un passeggio a piedi e quindi un vero salotto con la degustazione magari al bar dei nostri prodotti a cui prima accennavo e quindi una vera fruizione delle nostre bellezze con eventi con parcheggiare un po' parcheggiare a ridosso a ridosso vicino ma non parcheggiare davanti ci sono sindaco a Tolentino altro tema che rende sempre difficile la gestione tra amministratori cittadini che arriva se ci sono questo è un discorso che si può fare i parcheggi a Tolentino ci sono ci sono i parcheggi di cintura e adesso stiamo lavorando un progetto di restyling di tutto l'aspetto appunto dei parcheggi periferici e non questo ci consentirà anche di intervenire ancora naturalmente attraverso dei bandi e quindi ci devono essere anche le imprese che investono in questo e questo fino ad oggi c'è stato fortunatamente quindi una joint venture una collaborazione che a noi ha consentito di fare molte cose oltre alla valorizzazione del patrimonio esistente o la dismissione del patrimonio esistente non strategico in un momento di carenza finanziaria c'è stato il grosso appoggio da parte anche dei privati che si misurano in azioni pubblico private per migliorare la città e noi abbiamo i parcheggi ma dobbiamo migliorare nel piano dei parcheggi insomma una Tolentino che cambierà ci sembra aver capito senza altro già cambiata per molti versi per molti versi ma dovrà cambiare ancora proverà senta sempre per restare nell'attualità sempre perché veramente con lei si può parlare di tutto una battuta veloce visto che l'abbiamo vista anche intervenire in trasmissioni a livello nazionale come il Tg5 una battuta veloce su questo asilo i tolentinati ovviamente sanno di cosa stiamo parlando i marchigiani un po' meno insomma a che punto siete con questa idea dell'asilo denominato Green se non vado errata mi fa molto piacere che mi chieda questa cosa perché ho tanto fortemente voluto questo cambiamento nella storia dell'asilo Green e lo voglio ancora fortemente oggi nonostante sacche di contrarietà io eronicamente in Consiglio Comunale ho risposto a chi ancora insisteva sull'errore secondo coloro che non vogliono questa operazione appunto da parte nostra di portarla avanti intanto voglio precisare che l'operazione Green è la prima operazione a livello economico a costo zero per l'amministrazione comunale quindi sotto l'aspetto finanziario è una operazione che va solo ed unicamente ad arricchire e a vantaggio sotto il profilo infrastrutturale il nostro comune e quindi va a vantaggio dell'amministrazione comunale poi si può discutere sotto l'aspetto urbanistico e questo ci sta ma nel suo insieme porterà la costruzione di una nuova scuola che non si allontana da oggi c'è appunto l'attuale Green che avrà il doppio dei posti qualcuno dice non serve ma noi voglio ricordare che vicino all'area Green c'è tutto lo sviluppo pace dove c'è anche il centro commerciale Oasi che è il terzo centro commerciale costruito o lasciato costruire da chi mi ha preceduto quindi con anche un certo contrasto con i commercianti del centro storico ovviamente più centri commerciali periferici nascono e più si vedevano messi a repentaglio con le loro attività ma detto questo noi andiamo a costruire una nuova scuola un nuovo nido più performante il cui progetto è stato fatto visionare anche a coloro che ci lavorano dentro così almeno tutte le barriere vengono abbattute vengono standardizzati i nuovi spazi eccetera e nuovo tecnologicamente avanzato e quindi autosufficiente sotto l'aspetto energetico in più c'è un'area adesso verde lì abbandonata dove noi abbiamo fatto e va detto anche qui c'erano raccolte le firme che veniva dal passato un'area scambamento cani attrezzata affinché i proprietari di questi animaletti che amano l'uomo più di quanto l'uomo ami loro possano andare lì e evitare magari di sporcare la città facendo divertire il cane lì c'è previsto un parco di circa verde attrezzato con un campo di calcio adotto di circa un ettaro a tutto questo si aggiunga che chiunque vincerà il bando che esce fra pochi giorni quindi non demordiamo assolutamente sulla nostra idea perché siamo convinti chiunque parteciperà a questo bando dovrà anche sborsare avendo poi prima completato le opere pubbliche 300 mila euro all'amministrazione per costruire come tranche per costruire un ponte di attraversamento del Chiendi perché voglio ricordare a chi non conosce bene Tolentino che noi oggi le due città la periferica e quella centro storico si uniscono attraverso il ponte del diavolo che è una struttura che appartiene a 1200 e che non può reggere un traffico veicolare di questo tipo ringraziamo San Nicola per questo affascinante ecco quindi poi concludo si parla di centro commerciale dove c'è l'attuale Green ma è un 1700 metri quadri di struttura 6 metri d'altezza dove al massimo ci può andare una piccola media attività commerciale e quindi non si parla più di centri commerciali a Tolentino se se ne è fatti e se ne è parlato non li abbiamo fatti noi e io una battuta che ho fatto in Consiglio Comunale ho detto avete tanto sbagliato seppure in questi anni a chi mi ha preceduto lasciateci sbagliare in piccolo anche a noi visto che dite che questo è uno sbaglio poi sarà la cittadinanza una volta concluse le opere a dire se è stato uno sbaglio o è stata a costo zero un'operazione brillante per noi chiarissimo il sindaco su questa questione che comunque tiene alta l'attenzione in città siamo davvero alle conclusioni io ringrazio Giuseppe Pezzanesi ricordando poi che festeggiate il patrono tra qualche giorno quindi fra qualche giorno il nostro San Catervo perché a Tolentino c'è un detto dice tutto per San Nicola e niente per San Catervo in realtà avete due santi ecco abbiamo due grandi santi ma non è così da quando io faccio il sindaco abbiamo alzato l'attenzione anche sulla festa di San Catervo proprio perché San Catervo è bellissima la cattedrale è una grande storia il santo e quindi tutte e due stanno nel nostro cuore e non c'è disparità chiaramente la festività di San Nicola per tradizione dura un po' di più ma queste sono scelte che certamente non fa l'amministrazione fanno le autorità ecclesiali e quindi sono questioni che lasciamo fare a chi l'ha fatta sempre allora ringrazio ancora Giuseppe Pezzanesi il sindaco di Tolentino per essere stato in nostra compagnia buon lavoro per tutto quello che ci ha raccontato e ringrazio voi e vi do appuntamento la settimana prossima grazie grazie a voi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti